L'idea dell'arretramento della ferrovia lanciata o meglio rilanciata dal sindaco di Pesero Matteo Ricci sta mietendo sia alleati che dubbi all'ambizione di puntare a creare un passante verde sulla città, staccare i binari dalla costa e decentralizzare la stazione a cavallo fra Villa San Martino e Villa Fastigi. Se riusciremo a prendere la parte che ci spetta dentro quei 5 miliardi potremo lasciare questo grande progetto fondamentale per la viabilità, per la mobilità, fondamentale per il trasporto merci che può cambiare la città, renderla sempre più verde, più sostenibile e più competitiva. Fra gli alleati ci sono le amministrazioni comunali costiere della provincia, dal sindaco di Fanosseri a quello di Mondolfo Barbieri interessati ad essere parte integrante della partita. Ma si sono spesi con favore all'idea anche i sindacati provinciali e ora anche la regione Marche valuta con interesse, attraverso l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, i punti di forza di un'opportunità che avrebbe un impatto importante sulla velocità di percorrenza nella dorsale adriatica ma che presenta criticità rilevanti come la decentralizzazione delle stazioni, che se Ricci vede con favore il discorso è differente per il resto di una costa marchigiana con cui la regione apre un confronto in tal senso. Partita aperta col governo che dovrebbe valutare nel caso quale porzione di territorio può essere realmente a favore dell'arretramento. La regione intanto si conferma quanto mai attenta al trasporto ferroviario e nel frattempo sta valutando altri progetti non meno rivoluzionari, come quello cavalcato da Baldelli sul cosiddetto anello ferroviario che colleghi i comuni interni marchigiani. Dopo aver riesumato la tratta ferroviaria Fabriano-Pergola si sta ad esempio cercando di costruire un progetto che da Pergola allunghi binari fino ad Urbino, passando per Cagli e Fermignano. A Pesaro intanto l'ipotesi dell'arretramento e di un'altrettanto ipotetica nuova stazione non va in conflitto con il progetto di restyling dell'attuale stazione ferroviaria presentato lo scorso maggio in accordo con RFI. L'arretramento viaggia su prospettive di lavori decennali, il restyling con un investimento di 10 milioni di euro punta a realizzarsi entro il prossimo biegno.